200.000 euro a valere sui fondi messi a disposizione dalla regione per la valorizzazione dell'area naturalistica della vercata nel comune di Fossato di Vico. L'inaugurazione lo scorso weekend la presenta tra gli altri del sindaco Monia Ferracchiato e del consigliere regionale Andrea Smacchi. In quest'area è stata inaugurata una struttura fissa in legno ed acciaio posta a servizio del centro escursionistico volta a sostituire l'attendo struttura provvisoria. A questo si sono aggiunti i lavori effettuati dall'agenzia forestale con la posizione di giochi per bambini disabili e la realizzazione di percorsi che permettano l'accesso ai disabili al parco, al corso d'acqua che attraversa lo spazio verde, il cosiddetto Fosso Vetorno, alla Sorgente, al centro escursionistico e dalla nuova struttura. Nell'occasione sono stati realizzati anche nuovi arredi come tavoli, staccionate, caminetti per una riqualificazione completa dell'area che si trova all'interno del parco del Montecucco lungo la strada Flaminia tra il borgo di Fossate e Sigillo, importante punto di snodo di percorsi naturalistici che possono essere percorsi a piedi, a cavallo o in mountain bike. Insieme alla vercata inaugurazione anche del rifugio col di tetto, in questo caso un punto di riferimento in quota collegato al sentiero Italia, qui gli interventi hanno permesso di ristrutturare l'immobile oggetto di logorio dovuto al tempo grazie alle risorse arrivate al comune di Fostato di Vico nell'ambito del masterplan.